Aiutare ad aver cura del pianeta perché dopo tutto è il posto in cui viviamo. Prende spunto dai pensieri dell'umanitario Ron Hubbard l'azione del gruppo di volontari cittadini di Foggia La Via della Felicità, che periodicamente si riunisce per ripulire strade e quartieri dal degrado dell'abbandono. L'ultima azione si è svolta in Via Natola per rimuovere tutta la plastica abbandonata lungo i marciapiedi sulle uole. Tra il bottino dei volontari molta plastica a monouso, cartacce, scatoloni e mozziconi senza dimenticare tutti quei rifiuti che ormai presenti da troppo tempo si sono uniti con il suolo e con il terreno cosa che complica e non poco anche la semplice raccolta degli stessi. Ma lo spirito e la forza di volontà dei volontari della Via della Felicità sono quei valori che non gli hanno impedito di ridare un aspetto migliore anche a questa parte di Foggia. Il gruppo ha in mente altri appuntamenti in giro per la città e lancia un appello a tutti i foggiani se tutti ci prenderemo cura del nostro ambiente Foggia prenderà sicuramente un altro aspetto, dicono, difficile, dagli torto.